Spagna e Algeria, che da vent'anni rispettavano un trattato di amicizia e buon vicinato, sono oggi più lontane che mai. L'Algeria ha sospeso unilateralmente il trattato dopo mesi di tensioni legate alla posizione di Spagna-Marocco su Sahara occidentale. Secondo l'europarlamentare 5 Stelle, Tiziana Beghin, che fa parte della delegazione per le relazioni con l'area del Maghreb, esistono diverse ragioni alla base della decisione del governo algerino. Una situazione molto complessa, che obiettivamente in un momento come questo, dove abbiamo già grandi instabilità sul fronte energetico e dell'approvvigionamento energetico, è piuttosto inopportuna, pur comprendendo chiaramente le posizioni politiche di differenti paesi su un tema che è, ahimè, sempre piuttosto contestato e che sappiamo avere un decorso molto lungo. Sono ormai decenni che questa situazione va avanti. Oggi quello che però riscontriamo è che questa situazione potrebbe anche minare i contratti a lungo termine che si stanno stipulando appunto per le forniture di gas e in questo forse ci potrebbe essere da parte dell'Algeria un tentativo di sostenere un certo rialzo anche e avvicinarsi più a quelle che sono le quotazioni del sistema TTF di Amsterdam. La sospensione del trattato, oltre a mettere in serie difficoltà il tessuto economico spagnolo e diverse società iberiche, ha senz'altro ripercussioni negative per tutta l'UE. Dal punto di vista della necessità di approvvigionamento del gas, l'ultima cosa che ci serve in questa fase storica è una crisi anche con l'Algeria. Quello che dispone il Repower EU, vuole a dire il taglio degli acquisti di gas dalla Russia, l'Algeria attribuisce da un certo punto di vista un ruolo centrale per l'Algeria, però da questo punto di vista il governo di Algeria deve capire cosa fare perché da un lato la fase storica gli attribuisce un ruolo molto importante, d'altro canto però bisogna capire se perseguire una politica di cooperazione con l'Europa oppure una politica di potenza seppur a livello regionale. I rapporti commerciali tra l'Algeria e l'Unione Europea rimangono molteplici e di conseguenza le leve per ricucire lo strappo ci sono. Farlo può essere importante perché nel momento storico in cui viviamo l'Europa non può permettersi la perdita di preziosi partner commerciali.